Denunciate tre persone per bancarotta dopo un'indagine condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Trieste, che ha concluso un filone investigativo nei confronti di un'attività commerciale del capoluogo regionale. Si tratta di un'azienda di trasporti internazionali di merci su gomma, dichiarata fallita l'anno scorso. Le indagini dei finanzieri hanno fatto emergere condotte illecite da parte degli amministratori dell'azienda, azioni che hanno portato a una dichiarazione di fallimento. I militari della Guardia di Finanza hanno scoperto falsificazioni dei bilanci d'esercizio da parte degli amministratori per mascherare lo stato di dissesto della società, potendo così favorire altri episodi di distrazione a danno della garanzia patrimoniale per i creditori. Inoltre l'intera documentazione societaria è stata occultata o distrutta, impedendo alla curatela familiare di determinare il corretto andamento degli affari. I finanzieri hanno anche rilevato cessioni di beni aziendali a favore di un'altra persona, connivente e denunciata a titolo di concorso, ad un prezzo concordato inferiore almeno la metà rispetto al valore reale, prezzo peraltro mai corrisposto. I tre indagati sono stati denunciati per bancarotta documentale, patrimoniale preferenziale e falso in bilancio.